Ciao ciao a tutti e oggi in questo video copierò le foto delle ragazze famose su Instagram. Allora ragazzi, io nell'intro ho detto copierò le ragazze famose, invece è una sola ragazza, però farò tre foto. E niente ragazzi, si chiama Christina Kreit ed è una ragazza bellissima, cioè in realtà è grande, ha tipo vent'anni, è bellissima con degli occhioni azzurri e sì, non vedo l'ora di vedere un po' come vengono le foto. E la prima foto che andremo a copiare è questa con Wolfie e sì, adesso vediamo un po'. Ecco qua, adesso metterò l'autoscatto così iniziamo. Ok, noi Wolfie facciamo i modelli. Allora questa è la prima foto, guardatelo come è venuto, tipo il piccolo blicchino. Poi ce ne stanno altre. Qua è venuto un po' sfocato. Qua invece è mezzo addormentato e devo dire che questa è una delle più belle. È troppo carino pure qua. E niente, sono queste qua. E poi dovrò scegliere quella migliore. E ragazzi, ecco qui la foto che ho scelto. È venuto molto bene, Wolfie è troppo carino, il mio piccolo amorino. E ragazzi, devo dire che, vabbè, io sono una ragazzina di 12, quasi 13 anni. Mentre lei, non so, avrà tipo 20 anni e, vabbè, lei è una donna e una ragazzina. E poi lei è bellissima. Però, vabbè, devo dire che questa foto è abbastanza simile. Cioè, sono riuscita a farlo bene con il mio piccolo bambino. E niente, devo dire che non è venuto male. E adesso andiamo avanti con la prossima. E ragazzi, invece, questa foto qua è sempre di Cristina. Però, allora, ho gli occhiali. Perché Cristina, in questa foto, indossa gli occhiali. E anche io, vabbè, porto gli occhiali. E adesso ho anche indossato questa maglia rossa. E non fateci, non ci fate caso. Ha la gonna sopra i pantaloni. L'ho fatto solo per la foto. Cioè, intanto non si vedono i pantaloni. Quindi adesso incominciamo. Adesso sto mettendo l'autoscatto. Quindi, adesso andremo solo. Ok, di nuovo. Ok, ragazzi, ecco le foto. Questa è la prima. Poi c'è questa. Non so quale scegliere. Vabbè, questo l'ho già, diciamo, tagliata. Perché devo dire che è una delle più belle. Però devo ancora decidere. Ecco qui, ragazzi. La foto che ho scelto. Devo dire che, vabbè, lei è sempre una donna di 20 anni, tipo. E io di 12, così, 13 anni. Quindi siamo molto diverse. E poi lei è bellissima. Però, vabbè, devo dire che è venuta abbastanza simile con gli occhiali. Maia, maia, color rosso. E adesso andiamo avanti con la prossima. E ragazzi, mi sono appena cambiata per fare l'ultima foto. Che è questa qua. E spero tanto che venga bene. È sempre di Cristina. E adesso vediamo un po' come viene. Come sempre, metterò l'autoscatto. Perché sono lontanuccia. Adoro che... Va bene, ho fatto vari scatti. Quindi adesso vediamo un po' qual è la migliore. Non lo so. Cioè, ne sono molti, quindi... Vabbè. Ah, vabbè, poi siamo andati di nuovo con Wolfie. E vabbè, sono questi qua. E niente, adesso devo scegliere quella migliore. E ragazzi, questa è la foto che ho scelto. Devo dire che è molto simile. Non perfettamente, però vabbè. Comunque, siamo molto diverse. Io sono una ragazzina, lei una donna. Però, comunque, lei è stupenda. È bellissima. Però, devo dire che un po' ci assomigliano alle foto. Quindi, sì, vabbè. Comunque, niente. Spero tanto che vi sia piaciuto questo video. E Wolfie sta ancora qua. E ragazzi, eccolo qua. È troppo carino. Ma anche molto stanco. Perché ha dovuto fare il fotomodello. Quindi lasciamolo dormire piccolino. E deve riposare. E comunque, ragazzi. Spero tantissimo che vi sia piaciuto questo video. E se vi è piaciuto mettete tantissimi like. E se volete iscrivetevi al mio canale, per favore. E niente, ci vediamo nel prossimo video. Alla prossima. Ciao, ragazzi. Ciao, ragazzi.